il giornale punto it lucano fa la predica da fazzi oppure nazisti seguivano leggi l'ex sindaco di riace giustifica il suo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina migranti ripopolano il paese di serena pizzi quindi andiamo a leggere quasi una mezz'oretta dopo che finita l'intervista quello che scrive il giornale punto it la tanto discussa e contestata intervista a domenico lucano ex sindaco di riace per romano di fabio fazio è arrivata il giornalista prima di fare entrare l'ex sindaco accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a che tempo che fa si è preparato una bella e buona premessa e sottolineiamo che da adesso fino alla fine il conduttore preciserà ogni volta che interagirà con lucano che è il sindaco di riace momentaneamente sospeso momentaneamente sospeso parte la premessa sono 16 anni che va in onda questo programma dice fabio fazio la trasmissione ha il compito di raccontare il nostro paese e penso che sia doverò sospitare tutti alla televisione in particolare quella pubblica non può escludere deve includere poi ognuno si farà la sua opinione abbiamo più volte invitato rappresentanti del governo qualora decidessero di venire saranno i benvenuti pubblicità e studio entra mimo lucano si siede inizia l'intervista buonista dove ha dormito in questi giorni chiede il conduttore dormito fuori dal comune di riace nella mia auto replica l'ex sindaco sono fiducioso che il mio momento da riace duri poco e qui inizia il racconto di come tutto questo è iniziato perché il modello riace è conosciuto in tutto il mondo lucano inizia a spiegare che il mio interesse era quello di riscattare il mio territorio l'immigrazione rimane l'unica alternativa per il futuro io ero convinto che l'amministrazione comunale dovesse occuparsi di questo aspetto nel 98 è arrivato il vascello sulla spiaggia di riace con 200 profughi erano culti e da lì è nata l'idea l'arrivo delle persone nelle aree interne spopolate la soluzione per ricostruire la società credo che nessun essere umano può rimanere indifferente quando qualcuno chiede di essere aiutato per lucano quindi i migranti sono il modo migliore per ripopolare le terre spopolate gli italiani nel sud italia non ci sono più bene ci mettiamo secondo mimmo gli immigrati ma il caro lucano non ha solo accolto i migranti riace è finito nei casini per il modo con il quale utilizzava i fondi statali e quindi è normale chiedergli perché lo ha fatto ovviamente la domanda di fazio è più blanda e generalista è possibile fare accoglienza senza trasgredire le leggi abbiamo capito che è difficile dalle sue parole e qui il caro lucano cade un po e si mette in difficoltà da solo quando si vede qualcuno che muore è impossibile rimanere indifferenti non si può stare fermi perché lo dice la legge anche le leggi naziste erano la legalità ma è stato un dramma per l'umanità è un luogo comune che noi siamo trasgressori i clandestini sono tutti rifugiati nessuno è fuori legge bene questo l'articolo sul giornale punto it